Sono passati 30 anni dalla sera del 15 settembre del 1993 quando il caro Don Pino Puglisi, sacerdote buono e testimone misericordioso del padre, concluse tragicamente la sua esistenza terrena, proprio in quel luogo dove aveva deciso di essere operatore di pace, spargendo il seme della parola che salva, che annuncia amore e perdono in un territorio per molti arido e sassoso. Eppure il Signore ha fatto crescere assieme il grano buono e la zizzania. Sono queste le parole che nell'imminente anniversario, con una lettera indirizzata all'Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, Papa Francesco ha voluto rivolgere alla memoria del parroco siciliano, freddato a bruciapelo dalla criminalità organizzata proprio la sera del suo 56esimo compleanno nel quartiere Brancaccio di Palermo, in cui lo stesso inaugurò il centro Padre Nostro. Beatificato il 25 maggio del 2013, per la ricorrenza è stato proposto dal gruppo editoriale Il Pozzo di Giacobbe un libro dal titolo Padre Pino Puglisi, un leone che rugisce di disperazione, curato da Augusto Cavadi e Padre Cosimo Scordato, che abbiamo in collegamento questa mattina. Ecco abbiamo visto la copertina del libro in oggetto, allora Padre Cosimo innanzitutto buongiorno e benvenuto. Da dove nasce questo titolo così particolare? Ma guardi, il titolo nasce da una poesia che aveva scritto Don Pino, si parla di un leone che è in cerca della libertà, una poesia che è rivolta soprattutto al mondo giovanile, che ha bisogno di essere liberato da tutto quello che può bloccarlo nel dinamismo della ricerca della propria identità e nella realizzazione di una condizione di figlio, di figlio libero, che non ha padrone di sé, che riconosce soltanto un padre da cui essere amato e al cui amore attingere per condividere con gli altri cammini di crescita e di sviluppo. E quindi il libro poi è venuto fuori da questa collaborazione con Augusto Cavati, un'amicizia più che trentennale, che ha messo a frutto un doppio sguardo su padre Puglisi, perché Augusto insiste sul fatto che se ognuno fa qualcosa, allora si riesce a fare molto. E allora lui sottolinea questa condizione in cui non dovremmo avere bisogno di martiri per poter andare avanti. Purtroppo il martirio, considerato da questo punto di vista, diventa necessario quando manca la parte di tutti, di tanti altri che avrebbero o dovrebbero resistere alla corruzione, alla violenza. Se tutti fachessimo qualcosa, allora non saremmo soli nella resistenza al male in tutte le sue forme. Augusto insiste anche su un percorso di crescita e di partecipazione democratica alla vita sociale. Io personalmente ho insistito sull'aspetto di padre Pino come parroco, perché è stato ucciso? Una domanda inquietante, perché alla fine uno potrebbe dire come mai in un ambiente cristiano o di radici cristiane, dove c'è ancora tanta pratica di pietà, tanta religiosità popolare, come mai un prete che vive la sua condizione di pastore in un territorio dato possa essere ucciso. Ecco, io ho trovato una risposta in una citazione di Totò Rina mentre era in carcere. Ecco, lui è proprio, possiamo dire, la controfaccia di ciò che è la figura di Don Pino. Lui legge la sua presenza come se fosse uno scippo alla presenza mafiosa e lui, appunto, da incallito mafioso, d'uomo di potere e di violenza, vede la presenza di Don Pino come qualcosa che è concorrente a lui, quasi che volesse strappargli il terreno dalle mani, dal suo possesso. Ebbene, Don Pino non ha sfidato la mafia. Ecco, questo è quello che vorrei chiarire. Don Pino è stato alternativo alla mafia. La sua presenza evangelica, l'uomo che ha coltivato la bellezza del padre nostro, delle beatitudini, del servizio e che vive tutto questo in profonda coerenza con la sua identità di presbitero, sta lavorando a rimuovere tutto ciò che può impedire nella vita dei ragazzini una presenza così soffocante e mortale come quella dell'associazione mafiosa, rappresentata soprattutto dai fratelli Graviano, dalla famiglia Graviano, che da decenni ha imposto una presenza lugubre, mortale in quel territorio, e allora sente il bisogno di risurrezione, cioè di liberare da tutto quello che può rappresentare un attentato alla vita. E quindi è il Dio vivente che lui vuole annunziare con la sua presenza, l'alternativa di una comunità di credenti che vogliono stare insieme, gioiosi dinanzi alla vita, partecipi di un progetto di sviluppo e di partecipazione e di realizzazione di autentica comunità di persone libere e che demitizza ogni forma di potere, di dominio e soprattutto il dominio dei soldi che danno a ogni persona un prezzo, ogni persona un valore infinito. Ecco, padre Cosimo, le volevo chiedere questo, emerge da quanto ci ha raccontato fin qui, che è questo libro che nasce appunto dalla collaborazione, dal connubio tra uno studioso del fenomeno mafioso, è un teologo cattolico, un profilo inedito di Don Pino Puglisi che innanzitutto ci innesta in un cammino, un percorso di conoscenze e approfondimento su quelle che possono essere anche le modalità per finalmente tagliare queste radici delle mafie attraverso un'opera che è essenzialmente sociale, ma soprattutto attraverso le coscienze. La mafia è una struttura di peccato, noi la potremmo definire così, ormai scomunicata anche ufficialmente dalla Chiesa, per cui ogni appartenenza anche remota ad essa non è compatibile in nessun modo col Vangelo e con la vita ecclesiale, ma è anche un reato, è un reato che è un attentato alla serenità della vita sociale, alla convivenza pacifica tra le persone, libera e pacifica tra le persone. E quindi la figura di padre Puglisi interessa non solo a noi come credenti o anche come presbiteri che vogliamo riconoscere in lui una modalità tangibile di come tradurre il ministero presbiterale in un territorio complicato, ma interessa anche i laici, chiunque ha uno sguardo attento alla vita sociale. Ecco abbiamo sentito una presentazione di questo libro che ha messo in evidenza un aspetto in particolare, cioè il fatto che la mafia abbia in un certo senso, tra virgolette, rispettato la Chiesa nella misura in cui essa non ha messo in discussione il suo controllo del territorio ed il prete, tutto casa e Chiesa, promotore di processioni, è colui che invece ha messo in discussione appunto questo controllo del territorio stesso, ma come dicevamo innanzitutto la scomodità dell'operato di Don Pino è stata rilevata dalla mafia, soprattutto nei confronti di quello che è stato il suo modo di agire sulle coscienze, sulla percezione che le persone non avevano del fenomeno mafioso. Ecco, attendo dalla regia di sapere se abbiamo ancora per qualche minuto la possibilità di parlare con padre Cosimo. Ecco abbiamo forse qualche problema nel collegamento. Allora intanto vi posso fornire ancora qualche informazione, un ulteriore sguardo che rende la pubblicazione particolarmente originale, quella che vi stiamo proponendo quest'oggi. Alle spalle di ogni vittima di mafia si cercano giustamente gli esecutori materiali e i mandanti, ogni delitto di mafia però ha una terza categoria di colpevoli, i mandanti inconsapevoli, quale categoria sociologica fatta da tutte le persone che per non correre rischi personali preferiscono vivere nel compromesso, quello che viene definito il puzzo del compromesso, un compromesso che padre Pino Puglisi non ha voluto accettare fino a sacrificare la propria vita in quell'angolo di mondo che lo ha visto nascere e promuovere il bene.